Nessuno dei problemi è stato risolto. Il 5 e 6 dicembre torneranno a scioperare i dipendenti della ATI che svolge il servizio di raccolta rifiuti nella città di Andria. Continua a surriscaldarsi il rapporto tra Sieco Gialplast e gli operatori del servizio raccolta rifiuti. Secondo questi ultimi infatti ci sarebbero macroscopiche inadempienze da parte delle due società anzitutto in termini di sicurezza dei luoghi di lavoro con un cantiere giudicato inadeguato come ci avevano raccontato già in occasione di un presidio tenuto durante una riunione di consiglio comunale. Come fanno a dire il comune, la ASL eccetera eccetera che il nostro cantiere è idoneo quindi io sfido ancora chiunque venisse domani mattina ore 5 meno un quarto al cantiere e vediamo se il cantiere nostro è idoneo. Oltre qui noi andiamo oltre, noi andiamo oltre perché non ci fermiamo, perché i diritti dei dipendenti sono sacri e ci devono essere, ci devono stare per forza. Dicono che hanno dimenticato anche in notturno, non messo sulla busta paga, poi hanno fatto un altro bonifico, cioè una ditta fa una cosa, l'altra ditta fa un'altra busta paga, non sappiamo più come comportarci. Sarebbe restata irrisolta persino la questione dei dispositivi di protezione individuale, tanto che molti operai continuano a indossare giacche e felpe della ditta Sangalli che ha svolto il servizio ad Andria per oltre un decennio. Ma ciò che mette davvero in difficoltà i dipendenti sarebbe la irregolarità nell'erogazione degli stipendi. Solo una delle due società è puntuale nel pagamento e così si crea addirittura una disparità di trattamento tra gli operatori. Su questi presupposti la Filpuglia ha indetto lo sciopero del 5-6 dicembre affermando di voler garantire i servizi minimi e essenziali.